Terra amara, anticipazioni della puntata, del 22 marzo. La villa è avvolta da un silenzio fitto, mentre Zuleia, con passo deciso e gli occhi carichi di vendetta, riconquista il suo regno. Betul, ignara della tempesta imminente, viene chiamata davanti a tutti da Zuleia, che regna con una dignità fredda. Il suo sguardo tagliente penetra l'animo di Betul, umiliandola senza pietà. Nel frattempo, Hakan, angosciato, si dibatte nell'oscurità della sua anima, tentando disperatamente di riconquistare il cuore di Betul. Il suo tormento interno si riflette nei suoi occhi densi di rimpianto e desiderio. Se desideri addentrarti nei particolari di ogni scena emozionante, ti lascio dei link diretti, di momenti unici ed esclusivi, sotto, nella descrizione. Se ti fa piacere, guardali. Abdul Kadir, sotto il manto del segreto, continua i suoi incontri romantici con Betul. Le loro passioni fiammeggiavano in un vortice proibito, mentre il pericolo danza attorno a loro come un'ombra inquietante. Ma Zuleia non rimane inerte, con astuzia e... Determinazione orchestrò un piano oscuro per abbattere il suo avversario, l'avvocato, lasciando Kolak nella sua scia di distruzione. Betul e Abdul Kadir, avvolti nell'abbraccio segreto della loro relazione proibita, si trovano di fronte a una scelta difficile. Kadir, con voce ferma e sguardo penetrante, esprime la sua inquietudine, non potendo più sopportare il continuo legame di Betul con il suo rivale. Nel cuore della villa, Betul cerca di persuadere il suo amato, Kadur, che lei vuole sposare Kolak solo per i suoi soldi, ma che non prova nulla per lui. Lei vuole solo ereditare la sua ricchezza. Seduti nel salotto, cercano di trascorrere del tempo insieme, immersi nelle loro discussioni e nei loro sogni comuni. Tuttavia, la loro tranquillità viene interrotta dall'improvviso da un bussare alla porta. È Kolak che si presenta, gettando Betul e Kadir in un imbarazzo repentino. Keskin, sentendosi bruscamente disturbato nella sua intimità, si nasconde istintivamente nel bagno, lasciando che l'aria si carichi di tensione. Anche se desidera affrontare Kolak, non può fare a meno di nascondere l'odio che prova per lui, conscio delle conseguenze che potrebbero scaturire da un confronto diretto. Nel frattempo, Betul, sopraffatta dall'imbarazzo e dalla confusione, cerca di trovare una soluzione che possa porre fine a questa situazione complicata. Dopo essersi presentato alla porta con determinazione, Kolak fa di tutto per entrare in casa, desideroso di avere un momento intimo con la sua fidanzata, nonostante lei cerchi di evitarlo. Continua a insistere e la prende con forza per un braccio, tirandola verso di sé con impeto. Abdul Kadir, furioso, osserva la scena attraverso la porta socchiusa, dove si è nascosto, incapace di intervenire direttamente. La tensione si fa sempre più palpabile mentre Kak conduce Betul in camera da letto nel tentativo di avvicinarsi a lei. In quel momento critico, Keskin esce dal bagno con l'arma in mano, il viso contorto dalla rabbia, sull'orlo di sparare. Tuttavia, Betul, con un gesto rapido, cerca disperatamente di fargli capire di non farlo, implorandolo con lo sguardo. Kolak persiste nel suo desiderio, sussurrando parole dolci a Betul nel tentativo di conquistarla. Ti voglio, mi manchi, mormora con voce carica di desiderio e impazienza, mentre il destino di tutti quanti pende sospeso in quel momento di tensione estrema. Tuttavia, in quel preciso istante, arriva Shermi a casa, gettando una svolta inaspettata alla situazione. Betul finalmente trova il coraggio di allontanarsi dall'uomo, mentre Abdul Qadir, respirando con sollievo, decide di nascondersi per evitare di essere scoperto. Era stato vicino a premere il grilletto e la sua presenza sarebbe stata una tragedia imminente se Shermi non fosse arrivata in quel momento. Il giorno seguente, la strategia di Betul inizia a dare i suoi frutti. Sulle pagine dei giornali appaiono fotografie di Zuleia e dei suoi dipendenti di fronte all'hotel, accompagnate dalla notizia della sigillatura della villa. La vittoria di Betul, ottenuta con astuzia e determinazione, si riflette sulla carta stampata, mentre Zuleia subisce una sconfitta pubblica che segna l'inizio di un nuovo capitolo nella loro battaglia per il potere. Nell'intera Ciukurova si discute vivacemente dell'infelice situazione della famiglia Yaman, causata dal mancato pagamento delle tasse al governo. Tuttavia, grazie all'aiuto prezioso di Fikret, Zuleia riesce finalmente a recuperare la villa. La famiglia Yaman, insieme ai loro fedeli collaboratori, è estremamente felice di fare ritorno alla dimora che considerano il loro rifugio. Nonostante il tempo trascorso piacevolmente nell'hotel, la gioia viene presto interrotta dall'arrivo della polizia giudiziaria alla villa. Questa volta sono lì per rimuovere i sigilli, causando applausi scroscianti da parte di tutti i presenti. La notizia del recupero della villa da parte di Zuleia si diffonde rapidamente, raggiungendo le orecchie di Kolak, il quale reagisce con rabbia per il fallimento del suo piano. Il principale avversario della famiglia Yaman progetta un nuovo stratagemma contro la signora e inizia immediatamente restituendo i gioielli a Zuleia per guadagnarsi la sua fiducia. Nel frattempo anche Zuleia desidera vendicarsi, determinata a contrattaccare Betul dopo gli eventi precedenti. Le due donne si ritrovano in un ristorante, dove Zuleia mente abilmente, cercando di convincere Betul che desidera ristabilire un rapporto cordiale con lei. Betul, però, respinge senza esitazione qualsiasi possibilità di riconciliazione, mostrandosi trionfante. Sfrutta l'opportunità per umiliare nuovamente Zuleia, mettendo in risalto ogni singola mossa messa in atto per contrastarla durante la loro conversazione. Rivela tutti gli inganni che ha architettato nei mesi precedenti per recare danno a Zuleia. Ciò che Betul non immagina è che Zuleia ha ottenuto esattamente ciò che desiderava. Nel frattempo Kolak è furioso per il fallimento del suo progetto di comprare la villa Yaman. Quando si incrocia con Akan nel villaggio, lo intimorisce minacciando non solo lui, ma anche Zuleia e la sua famiglia. La tensione tra le parti coinvolte è sempre più palpabile, mentre le trame si intrecciano e la rivalità si intensifica. Dopo le minacciose dichiarazioni di Akan, lontano da levitare la questione, si lancia nell'azione. Con l'aiuto di Abdul Qadir, mette a fuoco uno dei mezzi di CAC. La scena è carica di tensione, con il crepitio del fuoco che rompe il silenzio della notte, mentre le fiamme divorano il veicolo, illuminando il buio con una sinistra luminosità arancione. Questo evento segna l'inizio di un conflitto aperto tra gli uomini più pericolosi di Chukurova, lasciando presagire tempi turbolenti per la regione. Contemporaneamente, Zuleia inizia il suo piano per svelare la vera natura di Abdul, decisa a spingersi fino in fondo per raggiungere i suoi scopi. Con astuzia e determinazione, coordina ogni mossa del suo piano, tessendo una tela intricata di inganni e manipolazioni. Dal suo rifugio segreto, osserva con soddisfazione l'evolversi degli eventi, sapendo di aver innescato una serie di conseguenze inevitabili. Dopo aver orchestrato il piano per ottenere la villa e diffamare il nome di Abdul in città, l'antagonista, con l'aiuto di Fikret, prepara una spettacolare rappresentazione al cinema per l'intera comunità. L'atmosfera è carica di anticipazione, mentre la gente si raduna per assistere alla proiezione speciale. Le luci si abbassano, il film inizia e l'attenzione di tutti è catturata da quello che sta per accadere. Una serata gratuita con bevande e gelati attira l'attenzione di molti, inclusi Shermy, Abdul e i loro amici. L'aria è tesa, carica di emozioni contrastanti, mentre le persone si mischiano nella folla, intrappolate nel vortice degli eventi che si stanno svolgendo intorno a loro. La tensione tra. Le fazioni coinvolte è palpabile, mentre i destini si intrecciano e il sipario si alza su una nuova fase della loro battaglia per il potere e la vendetta. Tuttavia, nessuno avrebbe potuto prevedere che Zuleia e Abdul sarebbero state le sole attrici del film proiettato. In un colpo di scena mozzafiato emerge di fronte a tutti una conversazione avvenuta al ristorante con la giovane. Qui, Abdul si compiace di tutto ciò che ha fatto da quando è arrivata in città. Di fronte a questa rivelazione, Abdul e Shermin sono increduli e sconvolti nel vedere quella lunga confessione di tutti i misfatti che Abdul ha compiuto nei confronti di Zuleia e dell'azienda Yaman. Zuleia ha colpito duramente, costringendo la stessa Abdul a confessare tutti i suoi inganni. Abdul e sua madre, sconvolte, lasciano il cinema umiliate sotto lo sguardo disapprovante di tutti. Al loro arrivo a casa, Abdul scoppia in lacrime, rivivendo con la madre il momento di umiliazione. «Quella maledetta mi ha fatto vergognare», si inghiozza Abdul, ma qui Shermin interviene, dicendo che non ha bisogno di Zuleia per sentirsi umiliata, poiché è in grado di farlo da sola. «Zuleia, non essendo istruita come te, è comunque riuscita a farti confessare perché «l'intelligenza», dice Shermin furiosa con la figlia, evidenziando l'abilità di Zuleia nel manipolare la situazione a suo favore, nonostante le sue origini modeste». «Cosa pensate che accadrà quando Zuleia e Abdul si scontreranno di nuovo? Fatecelo sapere». Nei commenti sotto, dopo una giornata di intrighi e pianificazioni, Zuleia, Fikret e Lutfie rientrano a casa, i loro volti illuminati da sorrisi di soddisfazione. Nella penombra della dimora si riuniscono intorno a un tavolo, discutendo animatamente sul modo in cui hanno incastrato Abdul e sui dettagli della registrazione di Fikret che cattura ogni minima sfumatura della loro conversazione. La luce soffusa delle lampade crea un'atmosfera intima e misteriosa, mentre i tre complici pianificano il prossimo passo del loro piano. Poco dopo, mentre la serata si fa sempre più cupa, il telefono squilla nella villa, interrompendo nella villa, interrompendo la loro discussione. È Savia che richiama l'attenzione di Zuleia sull'importante appuntamento serale con un cliente. Zuleia, con una repentina scintilla di urgenza nei suoi occhi, esce di fretta dalla dimora. L'aria fredda della notte accarezza il suo volto mentre si incammina verso il ristorante, con la mente concentrata sull'incontro, imminente. Prima di continuare a scoprire altre emozioni di questo video, iscriviti ora per non perdere gli aggiornamenti settimanali sulla tua serie tv preferita e sulle novità che seguiranno. All'arrivo al ristorante, l'atmosfera è carica di tensione mentre Zuleia fa il suo ingresso. Lo sguardo attento degli altri clienti sembra seguire ogni suo movimento mentre si avvicina al tavolo concordato, ed è lì che lo vede. Akan, seduto con un'aria misteriosa, attorniato da documenti che confermano la verità. Il rumore sommesso delle conversazioni circostanti crea un sottofondo vibrante, amplificando la tensione nell'aria. Quando finalmente affronta Akan, il suono del suo cuore battente rimbomba nelle orecchie di Zuleia. Le sue parole sono fredde, taglienti, mentre traccia una netta linea di separazione tra loro. Gli occhi di Zuleia brillano di determinazione, mentre si rifiuta di abbassare lo sguardo di fronte alle accuse di Akan. Il ristorante, silenzioso testimone di questo confronto, sembra quasi trattenere il respiro, consapevole delle conseguenze che questa rottura avrà sulle vite dei due protagonisti. Il giorno successivo, mentre Zuleia si trova nella quiete della sua dimora, riceve un enigmatico telegramma che la obbliga a lasciare temporaneamente Shukurova per qualche giorno. L'atmosfera è carica di mistero mentre Zuleia legge il messaggio. La sua espressione si fa seria e concentrata, anticipando un viaggio che potrebbe svelare nuovi segreti o intrighi. Nel frattempo, Betul è profondamente scossa dall'esposizione delle loro vicende nel film e cerca supporto da Abdul Qadir per pianificare una vendetta contro Zuleia. Tuttavia, Qadir, con voce pacata, le spiega che non è il momento giusto per agire e che occorre avere pazienza. Queste parole non vengono accolte bene da Betul, che inizia a dubitare della forza dei sentimenti di Keskin nei suoi confronti. La delusione e la frustrazione si leggono chiaramente sul suo volto mentre il suo sguardo si annebbia d'incertezza. Poco dopo, anche Shermin decide di intervenire, costringendo Kolak a sposare Betul. Il piano è elaborato. Far credere al criminale che madre e figlia lasceranno la città per trasferirsi a Istanbul e, se non vuole che ciò avvenga, dovrà quantomeno confrontarsi con Zuleia e farle pagare per quanto ha fatto a sua figlia. L'atmosfera è tesa mentre Shermin e Kolak si confrontano e il destino delle due famiglie si prepara a prendere una nuova piega. Se non vuoi perdere neanche un dettaglio della tua SOP preferita, ti invito a iscriverti al nostro canale Serie TV World. Iscriviti ora, lascia un like se stai apprezzando la trama e condividi con noi le tue opinioni sulla direzione che sta prendendo la SOP.